Sì, partiamo dall'Ariete, fine settimana e praticamente fine anno ormai ci siamo. Per voi amici dell'Ariete, devo dire, sarà un'altra giornata faticosa questa. Sentite proprio il peso di questo anno che va a chiudersi, che va a terminare, in cui siete stati spesso alle prese con problemi, diciamo anche quotidiani, di vita quotidiana, che però hanno finito con togliervi tutte le energie, anche i residui di energia. In effetti molti arieti si sentono veramente stremati in questo momento, avete bisogno di recuperare. Quindi mi raccomando, i prossimi due giorni, due o tre giorni, cercate di organizzarli al meglio, scegliendo delle soluzioni che non siano troppo stancanti, mi raccomando, perché avete un Marte in una posizione ambigua, che va ad agire anche sul vostro benessere psicofisico, avete un sole messo in quadratura, quindi le vostre energie sono ridotte all'unicino. E questa è una giornata che ancora vi vedrà impegnati sul lavoro, ma portare a termine risultati, a casa il risultato, insomma sarà veramente faticoso e complicato. Andiamo al segno del toro, per voi invece è una giornata bellissima, voi siete proiettati.